Il discorso è un gran sovrano che con le cose più piccole, le parole, porta a compimento gli atti più divini, esso infatti ha il potere di mettere fine alla paura, di allontanare la pena, di produrre la gioia, di accrescere la pietà. Gorgia, Incomio di Elena La mia bisnonna e il mio bisnonno sono andati dall'Italia, in Argentina, poi Spagna e poi di nuovo in Italia. Gli zii di mia madre sono andati a New York. Napoli è venuto qua a Genova. Il mio bisnonno è andato a New York. Mia mamma una volta stavo cercando un lavoro in Ecuador, è venuto in Italia, ha trovato un lavoro su un ufficio. Qual è il papà dell'Equador? Quando mia mamma è nata in Ecuador ha fatto un viaggio qui in Italia. E perché è venuta in Italia? Perché voleva imparare un'altra lingua. Io non mi ricordo dove sono nati i miei genitori. Gabriele, quattro anni. Dici i viaggiatori? Volevano avere un autobus. O non avevano soldi. O pensavano che dove arrivavano potevano avere una casa con il giardino. Mirka, cinque anni e mezzo. Oppure cercavano una casa, una scuola, un lavoro. Anthony, cinque anni e mezzo. Come ho fatto io? Paura, preoccupazione, nave, culto, conosci, poveri, disperazione, destino. Viaggio. 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 Per me sono poveri, preoccupati e avere paura di onde. Io vi ho detto che il clandestino è un grande destino, diciamo, che noi questo destino degli altri lo consideriamo povero, chissà chi sono, nessuno. Invece noi ci consideriamo, chissà chi, dei grandi. Crudele destino. Cioè che la gente cambia paese. Perché la gente cambia paese? Perché non può più vivere, perché un po' più vivere nella sua stessa città. Per conoscere altre culture. Trovare lavoro. Trovare lavoro. Trovare. I clandestini sono quelli che si imbarcano per disperazione perché non trovano cibo più oppure c'è una guerra nel loro paese. Si imbarcano senza documenti e senza passaporto per trovare una vita migliore. Noi lo assumono al lavoro e quindi loro per mantenere la loro famiglia sono costretti ad andare a rubare. Un migrato che è venuto in un paese senza farsi registrare, senza che lo Stato sappia che lui è lì. Questi sono persone che attraverso mezzi illegali, trafficanti di uomini e roba varia, giungono sulle coste e su dei barconi. Anche quelli illegali giungono da noi. Clandestino. Illegale. Stranieri. Seco. Lugare. Distinzione. Noi e loro. Su questa definizione noi e loro, il primeggiare è un essere superiore, il noi come dire noi, io sopra di te, tu sei praticamente l'uomo sull'altro uomo, cerca di renderlo un essere inferiore e sopraffarlo in qualche modo. Quindi per questo si dà questa distinzione. Ecco, andiamo verso l'imbarco. Quando si parla di disabilità o di migranti o di qualunque categoria di persona, gli si vuol dare un'etichetta quasi per metterlo un po' da parte, dimenticandoci un concetto fondamentale, che prima di essere non vedenti migranti omosessuali o qualunque categoria di persona che sia, siamo persone. Io avevo un campagno cinese, dove lì ho scoperto che è maleducato starnutire, quindi stava sempre così. Quindi se te vai in un paese, tipo io vado in Cina, però, non so, starnutisco normalmente, sai, loro non è che dicono mamma mia com'è maleducata. E quindi a volte non sapere la cultura degli altri può far venire maleducati. Questa cosa per me della diversità non esiste perché poi, tanto tempo fa, milioni di anni fa, non milioni, però anche più indietro, noi eravamo, diciamo, delle scimmie, uomini primitivi, e siamo nati tutti da quella evoluzione, quindi nessuno è diverso da nessuno. Se uno ti viene lì e ti dice ti tollero, io ti tollero, ti offende un po', quindi è una questione di rispetto. È un po' come dire, gli stranieri sono inferiori a noi, che invece, cioè nel senso, siamo italiani o altre cose, e allora superiori, non mi sembra proprio giusto perché loro non sono inferiori né superiori, siamo uguali e basta, non è giusto. È anche bello non dire noi e loro perché c'è sempre, nelle parole c'è sempre un confine, invece è proprio, dobbiamo stare attenti però a dire noi, perché sennò intendiamo tutto il mondo, perché siamo tutte persone identiche, non dentro, perché siamo tutte diverse con i nostri pensieri, però fuori, fuori non ci sono diversità e abbiamo tutti appunto gli stessi diritti e gli stessi bisogni. Flavio, cinque anni e mezzo. I confini sono muri che impediscono di andare da un'altra parte, li ho visti solo nei libri però. Morgere, mangiare, 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 coltare, esplorare, conoscere, inferiori, stelle distinzioni, muore, sopraffare. Confine Se mettono i confini l'uomo sarà sempre convinto un po' che quello che entra a far parte del tuo paese sia sempre un nemico. Il discorso che ho fatto è perché una persona prima o poi dice che lì non c'è confine quindi posso passare e fare ciò che voglio io. Significa che non ci sarebbe più il confine immaginario, la persona andrebbe oltre a quello, quindi il confine fisico tutto sommato serve e qualche volta frena anche gli istinti negativi degli uomini. Secondo me una metafora che si associa bene a questo discorso per il volere passare è una farfalla che vuole cercare di andare a esplorare anche lei, no? Ma questo muro è come un bambino che con il suo retino la raccoglie allora gli impedisce di ampliare le sue conoscenze. In questo caso la farfalla saremo noi quelli che vogliono ampliare le loro conoscenze e il muro sarebbe il bambino con il retino. Poi il confine non limita solo l'amicizia e queste cose ma anche la conoscenza e la mente perché un bambino che nasce dopo un po' di tempo si domanda anche un po' cosa ci sia al di là del muro e questo muro non gli permette di soddisfare la sua domanda. Se uno pensa che non ci sono più confini così di un botto, cambia tutto e quindi il fatto di dover cambiare anche qualcosa che è nella tua vita è una cosa che spaventa e che viene rifiutata all'inizio. Federica, cinque anni e mezzo. È vero che non hanno la carta igienica e la cameretta per loro? Gabriele, quattro anni. Dipende. Certi non hanno nemmeno un letto e un cuscino e alle volte manca una coperta. Gli immigrati del CAR e il centro per richiedenti asilo di Bari-Palese sono togolesi, senegalesi, insomma... ...hanno cominciato a caricare chimico e tentassi ad avvicinarsi, anche i giornalisti oltre le forze del mondo. Mussolmani, cristiani, rumeno, cinesi, non vedenti, etichetti, cristiani, musulmani. Preconcetti. Calcano di più su queste notizie, non capisco per quale motivo, però calcano di più a dire che un romeno ha stuprato, rapito, fatto bigato, piuttosto che io che sono italiana e che ho fatto la stessa cosa. Anche ai tigini. Ma ci viene detto un ragazzo rumeno, un ragazzo, punto. Secondo me c'è un pregiudizio. C'è anche dire che gli stianieri sono gli unici che rubano, non è vero. C'è anche gli italiani, solo che sono stianieri, allora per esempio al telegiornale si dice mai occhino. Sono italiano e non si dice neanche la nazionalità. Ha la tendenza di puntare il dito sempre sullo straniero, sul diverso perché è più debole, perché non ha lo stesso apporto. Perché non ha nulla su cui farsi. No, è più facile dire che è colpa di qualcuno di un altro paese piuttosto che pensare magari. La razza alla fine non bisogna per forza classificarla come una parola scientifica. È una parola che è entrata nel nostro lessico per dire che quella persona lì è di una razza che viene da un posto, un posto diverso che deve essere apprezzato quanto il nostro. Perché poi noi diciamo razza, vediamo il termine appena diciamo è razzista. No, invece si può semplicemente dire che quel termine è entrato nel nostro lessico e si può vedere il lato positivo di quello. Io voglio dire appartenenza a una cultura di un paese, cioè di un determinato paese. Cioè avere usi e costumi di quel paese, sentirsi anche di quel paese. La razza è un insieme, un insieme, un tipo uguale, che poi vabbè si può dividere in diversi casi, ma noi nell'uomo non esiste la razza, è stato pure specificato da uno scienziato, però si crede ancora che esista. Che dite sulla parola, perché si usa, se c'è il razzismo ci sarà la razza. La razza in realtà non esiste. La razza non esiste, sono persone che vengono da altri posti, però non esiste. Perché sono tutti esseri umani. Se io appunto, dicevo, fossi nata qui in Italia, ma fossi, che ne so, sudamericana, o africana, o asiatica, nel senso, e mi presento ad Andrea che non mi vede e lui non sa, anche se lui fosse, che ne so, il più razzista del mondo, sicuramente mi giudicherebbe da come mi pongo, e non da, cioè un vedente è il primo impatto, ah, magari se sei razzista dici quello è nero, me ne sto alla larga per dire questo, per fortuna, questo problema non ce l'abbiamo. Sì, trattemelo l'ho. E fanno due cose, che poi avete più di un'altra. Mirka, cinque anni e mezzo. Non è uguale un ricco che ruba a un povero che ruba. Se uno è poverino non può mangiare, sta proprio senza mangiare. Non può comprare manco un pupazzetto se ha un figliolino o un gelato. I poveri stanno senza gelati. Gabriele, quattro anni. Io non sono ricco, ma ho tutto. Casa. Denaro. Petro. Ricco. Niente. Mangiare. Pagare. Comprare. Guadri. Ricchi o poveri. Se ne hanno una casa, ne hanno un albergo, senza il suo popofoglio, per mettere su i suoi soldi, i suoi soldi. Quindi usate la casa, i suoi soldi, i lavori, i suoi soldi non si può comprare, né la roba da mangiare, né nient'altro. Niente. Senza niente, senza niente, non si può fare nessuna cosa. Noi abbiamo studiato con la professoressa da poco le crociate, è guerra tra cristiani e musulmani e a un certo punto c'è un principe musulmano ricchissimo che deserta una crociata, però da quel momento i cristiani, visto che hanno conosciuto questo principe musulmano così ricco, cominciano ad avere più rispetto per quella popolazione. Per me è anche la ricchezza che un paese ha, cioè se hai il petrolio sei ricco, se non ce l'hai, oppure se hai qualcos'altro, non so, e dipende anche da questo. Io lo so, perché se uno va in un altro paese senza pagare lo arrestano. Umberta, sei anni. Al museo ci hanno dato anche un passaporto. Ginevra, quattro anni. Io l'avevo visto da piccola, l'aveva mia nonna. Saliu, sei anni. A me l'hanno dato a Milano. Pagare. Arrestare. Passaporto. Ius. Cittadinanza. Illegale. Nel 1878, con il rato Giovanni Calcio, emigrato, residente negli Stati Uniti, Sprengo, guarda. Saliu fuori. Ah, sì, sì, vedo che hai già un biglietto da pagare. Legalità. Quanto porta con sé? 70 dollari. Mi arrestano, che c'è la prigione qua anche. Se invece non ho passaporto e libretto, Allora, che sono anche povera, non lo so. Mi rispeditano indietro o mi mettono dentro dove c'è la prigione qua. In Italia, comunque, non sono tanto... Cioè, credo che non possono avere la cittadinanza italiana, anche se uno che in passato è emigrato, non so, dall'Africa, però è nato in Italia, non può comunque avere la cittadinanza italiana. Che non si può piatendere che le persone italiane non siano, tra virgolette, razziste, se per primo lo Stato è razzista. Perché con questa legge siamo razzisti. Perché un italiano, cioè uno che nasce in Italia è italiano. Sono nato in Italia nel 98. Lui ha detto che sono, diciamo, da 10 anni in Italia, che sono italiano, ma secondo la legge non posso. Dovrei a 18 anni e decide se sono cinese o italiano. Non so nessun dei due, né cinese né italiano. Diciamo che in Moldava io mi sento un po' più a casa perché è veramente lì la mia casa. E loro mi accolgono come se non me ne sono mai andata. Quindi, ciao, dicono, io adesso lo traduzco in Moldava, però mi dicevano, ciao Bogdan, ti vogliamo bene, da quando non ci abbiamo visto, sei cresciuto, queste cose. E a me mi piace molto ritornare a casa mia. I migranti sono persone, sono portatori di diritti. Il diritto al lavoro, per mantenere le sanguiglie, per non fargli fare si toglie. Sforzi, vivere equamente, senza faticare troppo. Tu invece? Ah, il diritto ad essere curati in caso di malattia. Di non essere, diciamo, di non essere sottomessi, di non essere sfruttati, di avere libertà di esprimersi e di quando parliamo di essere ascoltati. Il diritto all'istituzione ha un diritto di voto quando si può, quando si agisce in età, anche il diritto appunto di viaggiare. Il diritto di parola, cioè sia quelli italiani che gli stranieri devono poter esprimere le loro opinioni sulle leggi, su quello che avviene. Poter vivere in tranquillità anche, oltre che poter vivere l'ordomento, un lavoro. Bisogna mantenere anche un po' l'uguaglianza, perché infatti, come abbiamo visto in queste foto che ci ha fatto vedere, una parte un po' più ricca e una parte più povera, quindi deve essere un po' l'uguaglianza. Quindi ci distribuiamo un po', cioè non... Sì. Non dobbiamo fare tutto così. Diritto alla propria identità. Diritto alla libertà. Diritto a soddisfare i bisogni primari. Casa, cibo. Diritto al gioco. Diritto allo studio. Diritto a un lavoro. Diritto alla cura. Diritto di espressione e di parola. Diritto alla cultura. Diritto allo svago. Diritto a viaggiare. Diritto a una vita migliore. I diritti ti permettono di difenderti dalle persone che te li vogliono togliere. L'uomo ha bisogno dei diritti, come la pianta ha bisogno dell'acqua. Sono i diritti che rendono le persone qualcuno. Senza diritti diventi nessuno. Quando io sentivo i messaggi delle bottiglie, i messaggi finali, mi venivano in mente tutte le storie di queste persone che... Ci hanno lasciato anche la vita. E poi ne ascoltavo una, mi è capitato proprio così, è un caso. Dicevano, io ho pagato 5.000 dollari per fare il viaggio. Siamo partiti dalla Libia. E poi ti diceva, appena siamo saliti sulla nave, ci hanno detto, questa è la rotta, domani arriverete a Lampedusa. Cavolo, ma questo sta succedendo oggi? Cavolo, ma questo sta succedendo oggi. iscrivano, ma questo sta succedendo oggi. Grazie a tutti.